almeno dal governo regionale su quali interventi intende mettere in campo perché ad oggi, a parte un po' di balbuzi rispetto agli interventi che il governo doveva mettere in campo il governo nazionale perché, come sa, in Sicilia molto spesso la colpa è sempre degli altri il governo regionale non ci ha detto che cosa intende fare e allora, da questo punto di vista, noi vi chiediamo di assumervi delle semplici responsabilità e se almeno non vi volete assumere le responsabilità del passato perché se siamo in questa condizione e per responsabilità politiche gravissime di chi ha governato questo Paese e di chi ha governato la Sicilia almeno assumetevi le responsabilità politiche per il futuro almeno impegnatevi a spendere dei soldi per restituire ai cittadini siciliani una condizione di normalità per rendere la Sicilia un posto in cui è possibile continuare a investire per il proprio futuro un posto in cui è possibile vivere in condizioni di normalità per i cittadini siciliani e per i cittadini italiani il mio sogno è che un giorno ci possa essere una Sicilia in cui invece di andare via 50.000 persone ogni anno perché non ritengono più quel luogo un luogo in cui costruire il proprio futuro ce ne siano 50.000 che arrivano perché pensano che la Sicilia è il luogo migliore dove costruire la propria vita Grazie Onorevole Palazzo 8 Passiamo all'interpellanza urgente 2.937 agli Onorevoli Prataviera ed altri sulle iniziative volte a ridurre gli aggravi economici derivanti dagli aumenti dei canoni sui passi carrai disposti da ANAS S.P.A. Onorevole Prataviera, prego per l'illustrazione Grazie Presidente Ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada i passi carrai devono essere acconsentiti, autorizzati previo un apposito provvedimento nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada interessata Se l'accesso alla diramazione insistono sulla rete stradale di interesse nazionale la competenza è ovviamente della società ANAS Ai sensi della legge numero 449 del 97 cioè a partire dal lontano 98 nel momento dell'applicazione cioè nel 98 sono iniziati in base a particolari tabelle e coefficienti di calcolo gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS S.P.A.